Un'iniziativa importante, sostenuta dalla Procura, un progetto a cui ho partecipato in piccolissima parte, per quello che ho potuto, che parte da lontano. Un paio di mesi fa Luigi Cuomo mi ha contattato, mi ha spiegato questa iniziativa che ho sostenuto dal primo momento. Lei è il primo firmatario di questo azionerato popolare? Certo, mi era stato chiesto, mi era assoluto l'impegno e così è stato, quindi anche la mia presenza qui è come cittadino Massimo Randegger Russo e come sindaco, sebbene di missionario, sindaco del paese. Questa amministrazione deve sostenere questa iniziativa perché questo impianto deve ritornare alla cittadinanza.